Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Oggi amici miei, come vedono i vostri occhi, ci troviamo qui su Skyrim. Finalmente, questo è quello che direbbero molti di voi, finalmente un video di Skyrim. Per iniziare però vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su Instagram, quello Raptor HD. Per quale motivo oggi ci troviamo qui? Per quale motivo oggi ci faremo una camminata con questo personaggio di nome Harry in ricordo dei bei vecchi tempi con il nostro mago orco Harry Potter. Siamo qui con questo nuovo personaggio, in una nuova modalità. Molti di voi già avranno capito, già avranno notato la barra rossa sulla magica e l'altro pezzettino rosso sul vigore. Stiamo parlando, amici miei, della modalità sopravvivenza. Stiamo giocando in modalità sopravvivenza e volevo un po' parlarvi di questa modalità. Visto che molti di voi me l'hanno chiesta, molti di voi vogliono vedere la serie in modalità sopravvivenza, molti di voi che mi mandano messaggi. E sono qui ragazzi per dirvi che a me piacerebbe farci una serie. Senza però darci nessun tipo di obiettivo. Può essere da 10 episodi, come può essere da 20, da 30 o da 5. Avevo intenzione di strutturare questa serie in modo tale che voi ragazzi siete protagonisti. In che senso? Allora io voglio che ciò che io andrò a fare nei episodi sia scelto da voi. Il mio invito è a commentare questi video, questi episodi, dicendomi quello che voi preferite che io faccia. Ad esempio, ora ci troviamo, vabbè, a Whiteran, stiamo all'inizio, dobbiamo parlare con lo Yarla e poi andare al tumulo delle cascate tristi. Una volta fatto ciò però, siamo liberi di fare tutto. Quindi c'è uno di voi che mi può dire, guarda Marco, fai questa missione, vai in quel luogo, entra in quella grotta, fai salire il personaggio di livello per aggiungere quel perk. Intanto continuiamo la missione, parliamo con il nostro amico, diciamogli che abbiamo visto un drago e che Riverwood è in pericolo. Ok, recupera la pietà del drago. La nostra prossima missione appunto è andare al tumulo delle cascate tristi. Prima di fare ciò, amici miei però, vi voglio far vedere in cosa consiste, per chi non lo sa, questa modella sopravvivenza. Allora, il nostro personaggio, come vedete, ha ora degli effetti negativi. Sulla magica ha quella parte rossa che pian piano sta diventando sempre più grande, stessa cosa per il vigore. Voi vi starete chiedendo perché sta succedendo questo? Bene, perché il nostro personaggio o sta morendo di fame, o perché fa freddo, o perché fa troppo caldo, o perché è stanco. Questi elementi possono danneggiare, diciamo, lo status, lo stato del nostro eroe. Come vedere ciò? Dovete andare su magia e andare su effetti attivi. Ecco qui, fame. Il nostro personaggio è affamato a tal punto che il vigore totale è ridotto. Ecco perché c'è la barra rossa. Gli attacchi con le armi sono più lenti del 40%, mentre usi gli scudi e ti aggiri furtivamente, sei meno efficace del 50%. Ragazzi, praticamente ci devasta questo effetto, cioè rovina praticamente tutto il nostro personaggio. Come fare? Dobbiamo mangiare che dopo vedremo. Per quanto riguarda invece quest'altro effetto negativo che abbiamo è prosciugato, praticamente la fatica, il nostro personaggio è stanco. Cos'è che dice? Che la magica totale è ridotta, magiche di rigore si rigenerano più lentamente del 40%, le pozioni benefiche sono meno efficaci del 20%. Invece per quanto riguarda il fortifica calore siamo messi a posto, per quanto riguarda il freddo e caldo siamo messi a posto, vabbè, la nostra pietà del guerriero e la nostra resistenza al freddo, visto che essendo dei nord il nostro sangue conferisce una resistenza al gelo del 50%. Come fare? Come risolvere il problema? Allora, per quanto riguarda la fatica dovete riposare o dormire, potete andare in una locanda se avete la vostra casa, se trovate una tenda in giro. L'importante, ragazzi, è dormire e riposarvi in modo tale da recuperare la vostra fatica. Invece per quanto riguarda il cibo, amici miei, fare ora le ricette e prendere tutto quanto quello che è il cibo in generale, quindi la carne, le mele, le carote, tutto quello che praticamente era inutile prima, ora ha un senso. Infatti, se andiamo nel nostro inventario, andiamo su pozioni, no, scusate, su cibo, come vedete, ora gli oggetti, come esempio la carota, ci dice che ripristina un punto di salute, e qua ci siamo, e ripristina due punti di fame. Stessa cosa al cavolo, giustamente, pietanze un po' più complesse, ad esempio già la mela verde ci ripristina 18 punti di fame, più il piatto è complesso, quindi la ricetta è complessa, e più giustamente andremo ad avere degli effetti migliori. Ad esempio, lo stufato di cerva, amici miei, guardate questo, oltre a darci, vabbè, 15 punti di vigore, ripristina un punto di salute al secondo per 720 secondi, ripristina un punto di salute al secondo e ci dà 380 di fame, quindi alcuni benefici sono molteplici. Stessa cosa vale per la zuppa di cavoli, facciamo la zuppa di cavoli, cuciniamo la zuppa di cavoli, ce l'abbiamo, ok, ora noi andiamo a mangiarla, qui andiamo su cibo, zuppa di cavoli, e l'abbiamo mangiata. Ti senti meglio? Ora siamo sazi, è uscito il messaggio in alto a sinistra. Infatti, come vedete, il vigore è tornato tutto quanto al massimo, se andiamo su fetti attivi, la nostra fame, ora siamo sazi, non hai fame, siamo messi bene, quello che ci manca, amici miei, è la fatica, abbiamo bisogno di dormire. Un'altra cosa, prima avete visto che la vita non era del tutto piena, torniamo al fatto che qui non ci rigeneriamo in automatico, quindi siete costretti o a mangiare o a utilizzare appunto le pozioni, altrimenti utilizzate la vostra abilità di cura e vi curate. Avete visto che è uscito questo messaggio in più, sopra la bussola, in alto, è uscito il simbolo del fiocco di neve, quindi del freddo. Ora è uscito il sole perché se vi avvicinate, ad esempio, nei calderoni, vicino al fuoco, quindi in zone calde, uscirà la parte del caldo. Se state vicino, ad esempio, all'acqua, che quindi dà freddo, potete raffreddarvi, quindi potete avere poi effetti negativi del gelo, del freddo e così via. Questo è il motivo per cui, amici miei, nel vostro inventario su vestiario avete un'altra caratteristica, stiamo parlando del calore. Come vedete, questa corazza di pelliccia dà calore 54. Per quale motivo dà così tanto calore? Perché è fatta di pelliccia, quindi il bello di questa modalità è che rispecchia anche molto, effettivamente, l'estetica e l'identità in sé dell'armatura. In questo caso è una corazza di pelliccia, quindi dà calore. Se invece andiamo su una corazza imperiale borchiata, come questa in questo caso, calore 27 è molto meno. Questo cosa significa che se ci dovessimo trovare in una zona di gelo, stare con questa armatura ci crea veramente tanti problemi. Le scarpe di pelliccia ci danno calore 24, e ad esempio le vestite principiante un semplice calore 27. In basso potete anche vedere vicino al valore armatura anche il grado di calore totale del nostro personaggio, questo è molto fondamentale. Ragazzi, questo più o meno è tutto quello che riguarda la modalità sopravvivenza. In più, non c'è la possibilità del viaggio veloce, quindi non potete velocizzare i vostri spostamenti utilizzando il viaggio veloce. Fatemi sapere, ragazzi, questo è stato un video in cui ho voluto spiegare un po' quello che è la modalità sopravvivenza, perché molti di voi me l'hanno chiesto. Commentate, scrivendomi quello che volete, dandomi dei consigli su quello che volete fare. Io andrò a scegliere per ogni episodio o più episodi, andrò a vedere più commenti o in ogni episodio ne sceglierò uno. La serie sarà un qualcosa di tranquillo, perché in questo momento sto portando anche del descroline, voglio alternare qualcosina. Nel momento in cui ci stufiamo, mi stufo, la interrompiamo. Faccio un video in cui decido e dico questo, ragazzi, è l'ultimo video e si interrompe la serie e facciamo quindi un video conclusivo. Detto questo, amici miei, io come sempre vi ricordo di lasciare un like, quindi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto e mi raccomando, Instagram, seguitevi su Instagram, quell'OraptorHD. Io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!